Ciao a tutti, io sono Andrea Capocci, un personal trainer specializzato nel mondo femminile. Volevo parlarvi un attimino dell'esperienza che ho avuto con Federico Cariglia, che ad oggi è il mio consulente per quanto riguarda tutti gli investimenti di criptovalute. Però facciamo un passo indietro. Come ho conosciuto Federico, ho avuto l'occasione di conoscere Federico tramite YouTube. Mi sono interessato a questo mondo da circa un annetto e mezzo, solo che non ho mai avuto l'occasione di conoscere una persona fermamente affermata su quello che è il mondo appunto delle criptovalute. Ho conosciuto Federico tramite YouTube, ho iniziato a seguirlo anche su Instagram. Cosa dirvi? Mi sono interessato molto soprattutto sul suo modo di fare, comunicare e la passione che ci mette. Allora questo mi ha spinto a dire, cavolo, anche io voglio andare in questo mondo, però come ben sappiamo io faccio il mio lavoro, faccio consulenza nel mio lavoro per quanto riguarda il fitness e ho voluto interfacciarmi con un professionista del settore. Quindi ho scelto Federico, l'ho contattato tramite mail, tramite il link di YouTube, ho acquistato il suo corso, dopo aver acquistato il suo corso ho deciso anche di fare delle consulenze strategiche per quanto riguarda il mondo degli investimenti. Cosa dirvi? Ho iniziato a investire con Federico, mi trovo molto bene, in soldoni posso dirvi che ho investito mille, ad oggi dopo un mese e mezzo del nostro investimento sono quasi al triplo di quello di cui eravamo partiti. Quindi la strada è ancora in salita, io sono fierissimo di aver intrapreso questo percorso, soprattutto perché mi appoggio a un professionista che lui ha la chiara visione di tutto quello che riguarda il nostro percorso. Quindi io ve lo consiglio, in primis se volete investire in modo sicuro con un professionista alle vostre spalle, ecco Federico fa il caso vostro. Contentissimo di questo percorso ed è solo l'inizio. Grazie a tutti.